In tutti i comuni d'Italia l'emergenza coronavirus ha indotto le amministrazioni comunali ad intervenire in piena sintonia e totale collaborazione con i consiglieri comunali, con le associazioni di volontariato, con il mondo ecclesiastico. Non si riesce a comprendere perché solo ad Ispi che i consiglieri comunali debbano essere del tutto esclusi dalla partecipazione alla gestione dell'emergenza nei limiti delle loro competenze. Nella nostra città, infatti, l'amministrazione comunale e la presidenza del Consiglio comunale hanno interrotto da tempo tutte le procedure democratiche. Le interrogazioni dei consiglieri comunali non ricevono risposta da mesi, cioè da periodi di gran lunga precedenti l'esplosione della problematica riguardante il Covid-19. Persino la richiesta, avanzata da alcuni consiglieri comunali, di convocazione di un consiglio comunale in videoconferenza avente per oggetto emergenza coronavirus sadistica, è rimasta disattesa. Pertanto, ai consiglieri comunali si nega persino il diritto di fornire il proprio contributo e di dare il proprio aiuto alla città in difficoltà. Persino la volontà, espressa formalmente dagli stessi consiglieri, di devolvere a finalità di sostegno delle famiglie in difficoltà le somme derivanti dalle indenità di presenza alle sedute del Consiglio comunale, è rimasta frustrata dal silenzio dei rappresentanti del comune, sia amministratori che burocrati. L'individualismo esasperato non può essere il metodo più efficace. Una collaborazione ampia ed aperta è sempre la soluzione più adatta ad assicurare efficienza e completezza agli interventi, specie in momenti di difficoltà come quello attuale, che impongono la condivisione dell'impegno e degli aiuti. Il confronto favorisce sempre l'individuazione delle soluzioni migliori. Nessuno può ritenersi a tal punto autosufficiente da escludere tutti e avvocare a sé ogni azione e provvedimento. Lo Stato e la Regione hanno già fornito al comune di Ispica gli adeguati sostegni, non è consentito a nessuno di utilizzare da solo, secondo i propri personali criteri, tali risorse. La democrazia in certi momenti non è solo trasparenza, ma anche efficienza. Per questi motivi, sottoscritti i consiglieri comunali hanno inoltrato delle note alle autorità competenti perché si ripristini rispetto delle più elementari procedure democratiche. Abbiamo letto il comunicato stampa firmato dai consiglieri comunali di opposizione a Palazzo Bruno, Serafino Arena, Giuseppe Barone, Giuseppe Corallo, Carmelo Denaro, Giannella Esaurico, Jerry Leontini, Giuseppe Pluchinotta, Giuseppe Quarrella, Matilde Sessa.